caldo record e incendi a fuoco la legna portata dal foglia ultimo saluto ad anna renzoni anima pesarese di forza italia solidarietà per black marmalade raccolti già 13 mila euro comune di tavuglia senza linea fissa telefonica da due giorni 10 e 10 elode premiate le eccellenze delle scuole medie di pesaro una buona serata cari amiche e amici di rossini tv per questa nuova edizione del rossini news telegiornale di mercoledì 12 di luglio che apriamo occupandoci del picco di temperatura di questi giorni che di fatto rischia di essere un pericoloso alleato di incendi oggi una colonna di fumo si è alzata dal fiume foglia per un rogo che andiamo ad approfondirne nel nostro primo servizio attorno alle 13 e 30 di oggi una colonna di fumo si è alzata dall'acqua del fiume foglia arrivando fino a inghiottire le auto in transito sul ponte brigata ebraica che a pesaro collega largo tre martiri a via mameli unendo la statale al centro storico a prendere fuoco i quintali di legname che durante l'alluvione di maggio hanno ingrossato il fiume caricandolo di tronchi rami e arbusti di velti cataste di legname che sgonfiata la piena si sono depositate e arenate alla base del ponte legna che oggi ha preso fuoco difficile capire se per qualche agente doloso esterno o per una combustione agevolata da un mercoledì da bollino rosso per ondate di calore che a pesaro hanno toccato il picco estivo dei 40 gradi percepiti il rogo è stato sedato con rapidità dai tre mezzi dei vigili del fuoco in un incendio di fatto verificatosi a poche centinaia di metri dalla propria caserma incendio che i vigili del fuoco hanno spento intervenendo dall'alto del ponte l'intervento ha portato la polizia locale a interrompere inizialmente il transito dei veicoli in direzione centro dopodiché il ponte è stato interamente chiuso al traffico per buona parte del pomeriggio in seguito al monitoraggio del rogo e dell'annessa messa in sicurezza pomeriggio in cui è intervenuta un autogru per agganciare i tronchi sollevarli completarne lo spegnimento e predisporne la rimozione l'assembramento di legname in questione è stato più volte oggetto di inviti alla rimozione sull'onda del timore di una nuova piena e invece oggi si è rivelato problematico per una ragione inattesa fin qui i tempi di rimozione si sono arenati nella burocrazia di competenze e nella scaletta di urgenze post alluvionali in attesa di fondi quella degli incendi è una situazione particolarmente delicata in vista delle alte temperature di questi giorni dopo il picco di temperatura registrato oggi la settimana continuerà all'insegna di analoghe ondate di calore il Duomo di Pesaro ha ospitato questa mattina l'ultimo saluto ad Anna Maria Bezziccheri in Renzoni da sempre l'anima politica di Forza Italia a Pesaro il Duomo di Pesaro ha tributato questa mattina l'ultimo saluto ad Anna Maria Bezziccheri in Renzoni una donna fortemente radicata nel tessuto imprenditoriale sociale e politico della città di Pesaro venuta a mancare lunedì nella sua casa di Soria Anna avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 24 luglio fu l'anima fondatrice aggregativa di Forza Italia nella città di Pesaro fin dalla nascita del partito di Berlusconi nel 1994 per poi cedere gradualmente il passaggio di testimone ma senza rinunciare alle sue battaglie anche fino allo scorso anno sono state proprio le bandiere di Forza Italia ad accompagnare entrate e uscita del ferretro in cattedrale dove sedevano tanti esponenti della politica del territorio soprattutto di quella del centrodestra da Michele Redaelli a Elisabetta Foschi riferimenti pesarese e provinciale di Forza Italia all'alleato di tante battaglie Roberto Giannotti fino agli esponenti dell'amministrazione rivali di sempre in consiglio comunale il sindaco Matteo Ricci presente in fascia tricolore e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini l'omelia di donna Valerio Rastilletti ha cercato parole di conforto al dolore della famiglia Renzoni dai figli Stefania Giacomo alle nipoti Anna e Emma che in chiesa hanno esternato ricordi di quella nonna energica strettamente legata alla sua altra grande passione quella del mare delle barche della navigazione della pesca come testimoniato anche dall'omaggio in chiesa degli esponenti del club nautico di cui la stessa Anna Maria fu presidente 10 e 10 elode le giovani eccellenze delle scuole secondarie di primo grado pesaresi sono state premiate da un attestato di merito conferitogli ieri pomeriggio nella sala del teatro della caserma di Pesaro glielo si legge sul volto il desiderio sfrenato di crescere e diventare più grandi il riconoscimento consegnato ieri pomeriggio a tutti i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado di Pesaro che hanno conseguito l'esame di stato con 10 o 10 elode può essere traducibile in un attestato di merito che simboleggia il passaggio di sogni e ambizioni nel tentativo di provare a coltivarli nel proseguo del loro corso di studi erano più di 124 gli studenti che hanno concluso il loro viaggio nelle scuole medie ottenendo l'eccellenza e che sono stati premiati ieri nella sala del teatro della caserma di Pesaro dall'assessore all'istruzione camilla murcia una grande soddisfazione ma non tanto dei ragazzi ma di tutta l'amministrazione nel rappresentare quelle che sono le eccellenze della nostra città sono rappresentati in una location d'eccezione già l'anno scorso entrando in prefettura hanno potuto assistere a un luogo per loro molto spesso precluso negli ultimi anni abbiamo riaperto quello spazio e la città ma ancora le giovani generazioni non lo conoscono e oggi siamo in caserma nel teatro della caserma che ringraziamo per l'ospitalità con un ospite speciale quest'anno al posto di Paolo Pagnini che festeggerà tra poco il suo compleanno quasi centenario avremo Giorgia Righi che è un esempio di resilienza e un ottimo incontro per i ragazzi che sono qui oggi io sono solita dire che la scuola non è un voto e il 10 il 10 lode rappresenta sicuramente una parte di tutto quello che questi ragazzi rappresentano e che ci vogliono raccontare per loro oggi è un passaggio un passaggio importante dalle scuole dei piccoli dei giovani a quello che sarà poi il proprio percorso del futuro nelle scuole superiori e realizzando mi auguro e auguro a tutti loro i loro sogni. Oggi è un giorno diciamo simbolico al termine di un percorso importante di tre anni ecco sensazioni da parte vostra che parli un po' al nome di tutti gli alunni presenti qui oggi? Sì l'orgoglio è grande l'orgoglio è grande appunto siamo felici che alla fine di un percorso scolastico durato tre anni appunto possiamo partecipare a questa cerimonia anche perché è importante che l'impegno vada anche ricompensato quindi è una grande emozione. Che sensazione ti suscita diciamo questo riconoscimento? Allora innanzitutto soddisfazione perché comunque io ho sempre preso la scuola molto seriamente e mi ci sono sempre impegnata poi di libertà perché comunque c'è finito un percorso e mi fa anche strano però sono felice comunque di iniziare uno nuovo più verso il mondo dei grandi perché proprio mi affascina comunque voglio diventare grande. Hai già scelto il percorso di studi per il prossimo anno? Io ho scelto il liceo linguistico perché comunque a me piacciono le lingue mi piacerebbe proprio continuare il percorso che ho preso alle medie e quindi ho scelto il liceo linguistico perché penso sia proprio il liceo appunto più adatto a me a quello che mi piace fare a quello che mi piace studiare. Che lingua hai scelto? Ho scelto francese e spagnolo. Ho deciso che andrò a fare lo scientifico tradizionale. E poi hai già in mente più o meno la tua strada o ancora troppo presto? Ancora troppo presto vedo sfocatamente forse una via medica qualcosa un percorso così ma ancora si verrà. Vi abbiamo raccontato all'interno del Tg di lunedì sera dello sfortunato episodio avvenuto sabato in provincia di Siena che ha colpito l'attività Black Marmalade. Vicenda che ha visto il furgoncino con a bordo l'intero catalogo del negozio di musica alternativa andare in fiamme a causa di un cortocircuito del mezzo. Oltre 40 mila euro di materiale è andato in fumo mettendo a rischio l'attività di via Cattaneo. Il gestore del negozio di dischi colpito dall'affetto ricevuto dai messaggi che gli sono arrivati ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe arrivando a raccogliere in poche ore oltre 13 mila euro. Ed è proseguito anche nella giornata di oggi il guasto alla linea fissa telefonica delle comune di Tavuglia che da ieri mattina martedì 11 luglio attanaglia i residenti nel tentativo di mettersi in contatto con gli uffici comunali. Il comune ha comunicato sulle sue pagine social che i tecnici stanno lavorando per risolvere il prima possibile il problema. Per urgenze utilizzare l'email protocollo chiocciolacomuneditavuglia.it Il gruppo ERA ha aperto un nuovo sportello a Cagli dedicato all'energia sicura e sostenibile. Tema che potrete seguire approfonditamente nello speciale tv che andrà in onda venerdì 14 luglio alle ore 20. Però ora vediamone insieme un breve strato. Taglio del nastro a Cagli per il tredicesimo sportello ERA presente in provincia di Pesaro Urbino. Un investimento importante del gruppo ERA nella città di Cagli che apre un servizio di prossimità in via Alessandri 23 e 25 in pieno centro storico. L'inaugurazione e l'apertura di questo punto vendita rappresenta un ennesimo successo. Un ennesimo successo che va dall'Abruzzo fino al nord Italia e sicuramente per Cagli può rappresentare un ulteriore spazio dove avere a che fare con persone professionalizzate e soprattutto dove avere un po' una linea guida per questa transizione ecologica che è un po' il fil rouge che va a costruire il tema degli ultimi anni. Non solo per il gruppo ERA, non solo per ERA con Marche ma in generale insomma per quelle che sono delle scelte che tutti stiamo iniziando effettivamente a fare. Il progetto che oggi vede la luce qui a Cagli di aprire un punto vendita e anche un punto di assistenza ai clienti per le pratiche sostanzialmente di servizio, quindi informazioni sulle bollette, pratiche di apertura contatori, chiusura, modifica delle potenze elettriche, acquisizione di nuovi allacciamenti, autoletture e quant'altro si svolgono con un certo agio se c'è la possibilità di parlare vis-à-vis con una persona che professionalmente si occupa di queste cose in uno sportello fisico. Ci fa piacere perché vuol dire che su Cagli ci si punta e vuol dire che Cagli ha quelle potenzialità in cui noi dell'amministrazione crediamo da tanti anni, quindi grazie veramente di cuore per questa apertura. Mi fa piacere che un'attività come questa si svolga all'interno del nostro centro storico che è agli occhi di tutti l'impegno dell'amministrazione per valorizzarlo, per renderlo fruibile ai turisti perché crediamo veramente di insomma oltre i servizi essenziali e questo lo è, che vogliamo potenziare, vogliamo riprendere o mantenere a seconda insomma di quello che abbiamo, però insomma anche da un punto di vista turistico ci fa tanto piacere perché avere e credo che faccia piacere anche a chi lavorerà qui perché insomma vivere in questo bel centro è una cosa piacevole e credo che sia anche insomma il discorso della, ecco, della bellezza, insomma del benessere che si respira qui sia una cosa, un valore aggiunto che chi starà qui apprezzerà sicuramente. Ed ora apriamo lo spazio dedicato alle curiosità. È conveniente o meno investire nell'oro? Ad approfondire questa tematica è l'attività Extra Gold che ha sede a Vallefoglia, Pesaro e Riccione. L'oro è un materiale, una materia prima che è conosciuta da tutti, a partire dai bambini fino ad arrivare alle persone più adulte. Perché investire in oro? Perché l'oro ha delle caratteristiche particolari. La prima caratteristica è quella che non può fallire, a differenza di quello che può avvenire con tutti gli altri strumenti finanziari. E in più storicamente abbiamo una rivalutazione storica negli ultimi 70 anni di oltre il 9% su base annua. Il mercato propone diverse soluzioni per poter investire in oro. Si passa da soluzioni di natura finanziaria come ad esempio gli ETF che sono uno strumento finanziario acquistabile presso qualsiasi banca piuttosto che l'oro fisico. La principale differenza dove sta? Sta nel fatto che acquistando uno strumento finanziario chiaramente si è a rischio controparte. Cioè significa che se la controparte dovesse fallire o dovesse essere inadempiente nei confronti dell'investimento che è stato effettuato chiaramente tutto andrebbe come si dice in gergo a carte 48. Mentre con l'oro fisico si acquista il possesso vero e proprio del materiale su cui si è investito. E l'altra particolarità è il fatto che è riconosciuto ed è rivendibile in tutto il mondo in qualsiasi momento. Chiaramente la maggior parte delle persone conosce l'oro da gioielleria che è quello con cui vengono fatti naturalmente anelli, bracciali, orecchini piuttosto che collane. Che differenza c'è fra l'oro da investimento e l'oro da gioielleria? Beh, quello che dovete sapere è che l'oro è un materiale molto malleabile, tant'è vero che in antichità per vedere se un oggetto era di oro vero, oro puro, si provava a dare dimorso all'oggetto per vedere se rimaneva l'impronta. Dunque che cosa succede? Che per poter essere utilizzato in gioielleria l'oro viene tagliato con altri metalli come per esempio il rame che poi dopo dà origine a quelle sfumature di oggetti che in gioielleria vengono venduti come oro bianco, oro rosa ed altre sfumature. Quindi viene fatto questo tipo di attività per il semplice fatto per dare una maggiore durezza all'oggetto che è stato prodotto in oro. Quando si parla di oro da investimento invece si parla di oro puro, cioè quindi un oro che viene acquistato per la conservazione del valore che ha. Basti pensare che è un'attività che viene fatta addirittura da tutte le banche centrali che negli ultimi 20 anni hanno più che triplicato il possesso di oro nel loro cavo, proprio per avere una maggiore stabilità finanziaria a seguito di quello che è successo nel 2008 come la maggior parte di voi si ricorderà. 150 ospiti e 50 appuntamenti in quattro giorni. Dalle 13 al 16 luglio l'Ulisse Fest fa tappa a Pesaro con un programma ricco di spunti e di idee per viaggiare, approfondire e divertirsi. La festa di Lonely Planet darà l'occasione di incontrare ospiti italiani e internazionali accumunati dalla passione per il viaggio, scrittori, artisti, fotografi e giornalisti. Tra i numerosi ospiti si segnala la presenza di Franco Arminio, Vinicio Caposela, Simone Cristicchi e Umberto Galimberti. E dopo il successo dello scorso anno torna a Cartoceto Parchi d'Estate, rassegna itinerante per le aree verdi del territorio promossa dal comune di Cartoceto in sinergia con la Proloco. Dal 14 luglio al 2 di settembre le serate si muoveranno negli otto parchi di quartiere offrendo un ventaglio di spettacoli tra comicità, musica, teatro, animazione per i più piccoli, giochi e molto altro ancora, con la possibilità anche di cenare all'aperto dalle ore 19.30. Il venerdì 14 luglio il noto personaggio pesarese Carlo Pagnini spegnerà 95 candeline. Momenti di celebrazione per questo longevo traguardo che si svolgeranno all'interno del Festival Utopia nel cortile esterno dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. Per l'occasione dalle 20.30 ci sarà la presentazione spettacolo del libro di prossima pubblicazione dal titolo El Nostre Pasqualone contenenti 43 poesie selezionate dallo stesso Carlo. Alle 21.15 seguirà poi la cena di compleanno. E all'arena BCC di Fano proseguono le serate all'insegna dello spettacolo con la compagnia teatrale Gli Arciaplat che venerdì 14 luglio porteranno sul palco la commedia dialettale Chi è l'ultimo? Questa è una commedia innanzitutto di un pesarese. È una cosa molto strana ma è un mio carissimo amico si chiama Gabriele Morbidi che ha scritto questa poesia è già stata rappresentata a Pesaro e noi l'abbiamo ripresa naturalmente tradotta in dialetto fanese perché altrimenti ci sarebbero stati dei problemi di comprensione. Si è ambientata in un ambulatorio, una sala d'attesa di ambulatorio di un medico e queste persone che arrivano è vero che una commedia che dovrebbe far ridere comica nell'ambulatorio di un medico? Sì perché nell'ambulatorio del medico si trovano delle persone più variegate con mille problemi e quindi che cosa succede? Che tutto sommato nell'ambulatorio del doutor come si dice da noi ci sono veramente chi ha i problemi diciamo seri e quindi non ma quelli noi non li tocchiamo però tocchiamo quelli che arriva comincia a raccontare la sua storia e i problemi con la moglie col marito col vicino ed è questa nasce e nasce la commedia e speriamo che sia anche vi faccia divertire e che sia abbastanza comica. Sicuramente divertente in dialetto il 14 luglio all'arena BCC di Fano. Ok venite numerosi Mark Mann e quando bocca dentro di chi è l'ultimo a che si varknusciamo tutti. E con questa notizia si conclude qui il nostro Tg però prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di serata. Infatti questa sera alle ore 21 e 20 trasmetteremo il trentesimo raduno bandistico interregionale e cerimonia di installazione di un defibrillatore donato al comune di Montelabate dall'associazione Le Strade di Luca speciale che ovviamente abbiamo girato e registrato con le nostre telecamere. E poi vi ricordo anche l'appuntamento per domani mattina come sempre in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino con Buongiorno Rossini Ore. 7.20 in diretta sia sulla nostra pagina Facebook ma anche ovviamente sul canale 80. E così si conclude questa nuova edizione delle Rossini News. Io vi aspetto domani e intanto vi auguro un buon proseguimento di serata.